A inizio una nuova era, comandante. Gli uomini e le nazioni forgiano il proprio destino. Ora faremo ciò che avremmo dovuto fare molto tempo fa. Massacreremo l'esercito sovietico e trasformeremo Mosca in un cimitero. Devi trovare e distruggere la macchina del tempo. Perché se cambiano di nuovo la storia, potrebbero cancellare le nostre vite prima ancora della nostra nascita. Finalmente abbiamo l'occasione giusta per distruggere i barbari russi una volta per tutte. Il carnefice Shogun sta puntando sul Cremlino. Aprigli la strada annientando chiunque gli si pare davanti. Il generale Supremo Tatsu vuole vedere il Cremlino e i suoi leader annientati. Mosca sta per cadere. Le truppe sono già schierate per un attacco su larga scala. I sovietici hanno delle buone difese, ma potrai contare sul supporto del carnefice Shogun. I tuoi obiettivi sono semplici. Attendi l'arrivo del carnefice Shogun in modo che possa supportare il tuo attacco. Il Cremlino deve essere distrutto. Nulla deve rimanere in piedi. Questo è il volere dell'imperatore. Come hai fatto ad arrivare a questo punto? Io non lo so. Ma qui finisce tutto. Adesso! Nuove opzioni di costruzione. Nuovo obiettivo. Base nemica individuata. Costruzione completata. Nuove opzioni di costruzione. I sovietici giungeranno qui molto presto. Nuove opzioni di costruzione. Destinazione stabilita. Sono un umile traghettatore. Torre base. Alleato sotto attacco. Comandante, la nostra versatilità sarà di primaria importanza in questa battaglia. Stai allerta. Base sotto attacco. Alleato sotto attacco. Il nostro viaggio comincia. Impossibile posizionare. Unità infetta. Torre base. Costruzione completata. Sono un umile traghettatore. Costruzione. Base nemica individuale. Costruzione completata. Pronta. Riparazione. Addestramento. Base sottotato. Io servo l'imperatore. Io servo l'imperatore. Difesa base. Io servo l'imperatore. Unità nemica individuate. Reconfigurazione base. Costruzione completata. Costruzione. Io servo l'imperatore. Io servo l'imperatore. Base nemica individuata. Nessuno è finibile. Costruzione completata. Costruzione. Costruzione completata. Nessuno è finibile. Costruzione completata. Onore agli imperatori. Morte ai nostri nemici. Sono un umile traghettatore. Ricamina tra l'imperatore. Nessuno è finibile. Costruzione completata. Guerrieri. Base sottotato. Non è finita. Per l'imperatore. Per l'imperatore. Nessuno è finibile. Guardo le armature. Nessuno è finibile. Nessuno è finibile. Nessuno è finibile. Mantieni la posizione fino al suo arrivo. Generatore base. Proesa base. Sito scelto. Generatore base. Proesa base. Sito scelto. Generatore base. Individuato. Mi possibilità. Con l'area di riconfigurazione. Costruzione. Generatore base. Riconfigura esa base. Generatore base. Base nemica individuata. Costruzione completata. Addestramento. Costruzione completata. Nessuno è finita. Non è finita. Non è finita. Costruzione completata. Avete chiamato? Eccellenza. Divisa base. Avete chiamato? Eccellenza. Non è finita. Non è finita. Non è finita. Reconfigurazione base. Costruzione. Costruzione completata. Costruzione. Costruzione completata. Unità nemica individuata. Base nemica individuata. Costruzione completata. Costruzione. Costruzione completata. Resta un minuto. Alleato sotto attacco. Costruzione completata. Costruzione. Costruzione completata. Costruzione completata. Alleato sotto attacco. Costruzione completata. Costruzione. Generatore base. Divisa base. Pronta. Costruzione completata. Destinazione stabilata. Resta base. Restinazione stabilata. Costruzione. Sono qui per servirti. Il nostro piangere comincia. Ripresa base. Pronta. D'accordo. Ti porterò là. Costruzione completata. Sarò la volta scossa. Alleato sotto attacco. Vieni duro, comandante. Il carnefice Shogun è quasi arrivato. Si porterò là. Un piano astuto. Adivini. Obiettivo raggiunto. Unità persa. Costruzione completata. Il carnefice Shogun è arrivato. Il carnefice Shogun è arrivato e ti aiuterà nella distruzione del Cremlino. Tu pensi di presentarti alla mia porta in questo modo? Così all'improvviso? Bene. Vieni a prendermi. Ti sto aspettando. Avete chiamato eccellenza. Nuovo obiettivo. Costruzione. Costruzione. Nuovo obiettivo. Pronta. Mentre in fase. Avete chiamato eccellenza. Impossibile posizionare. Alleato sotto attacco. Dobbiamo prendere il vostro ordine. Muoio dalla voglia di vedere questa corrotta città in cenere. Il massacro val bene è un piccolo danno collaterale, no? Lascia che il carnefice Shogun si occupi di questi bastardi. Puliremo dopo. Los angli. Chiamato eccellenza. Buon ciucco. sono parte. Ci buoni. Spargo. Sì. E' ui... La scia di distruzione si è lasciata dietro del bottino di guerra. Comandante. Mentre in base. Unità c'è portato. Reconfigurazione in base. Chiesa base. All'area di configurazione. Costruzione. I sovietici che difendono la macchina del tempo devono morire. Ora hai la possibilità di costruire l'arma più potente dell'arsenale dell'impero. Il killer psionico. Arrivano altre forze sovietiche. Time Warner. Unità sotto attacco. Killer base. Te l'ho detto che sarei tornato. Sei la mia spina nel fianco da troppo tempo ormai. Voglio assistere alla tua sconfitta ad un verso. Costruzione completata. Impossibile posizionare. Costruzione. Costruzione. Alleato sotto attacco. Generatore forte pronto. Killer base. Torre base. Destinazione. Generatore base pronto. Unità sotto attacco. Sito scelto. Generatore base. Reconfigurazione base. Costruzione. Generatore base. Generatore base pronto. Destinazione stabilita. Torre base. Alleato sotto attacco. Costruzione completata. Malaria. Costruzione completata. Generatore base. Droni presidibili. Sito scelto. Furia dell'imperature pronta. Costruzione completata. Costruzione completata. Unità sotto attacco. Generatore base. Individuata. Costruzione completata. Estrada. Corre. Sento scelto. Corre. Sento scelto. Sento scelto. Sento scelto. E' stato scelto. Sento scelto. costruzione completata nuove opzioni di costruzione alleato sotto attacco base limita individuata nuove opzioni di costruzione potenziamento completato costruzione alleato sotto attacco potenziamento completato nuove opzioni di costruzione base limita individuata potenziamento completato nuove opzioni di costruzione i sovietici sono stati gentili a morire e lasciarci le loro risorse sarà il momento di espanderci non non attacco 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 Costruzione. Chi mi ha evocato? Chi mi ha evocato? Alleata sopportata. Base limita in unico alta. Unità sopportata. Seleziono VT2. Base limita individuata. Unità in stretta. Finalmente. Il generale sovietico Krukov ha inviato delle truppe contro di noi. Adesso scontato. Chi mi ha evocato? Unità nemiche individuate. Unità sopportata. Noi stanno stancando, sono i prossimi. È l'ora. Questo mi piacerà. Sono i prossimi. Compiace. Non mettermi alla prova. Facile. Lavora. Bruciano. Chi mi chiama? Unità a sesso attacco. Che c'è? È tutto. Base nemica individuata. Unità nemiche individuate. Non mettermi alla prova. Sono completo. È tutto. Base sotto attacco. Unità sotto attacco. Costruzione. Raccoglitore sotto attacco. Alleato sotto attacco. Raffineria base pronta. Costruzione. Base nemica individuata. Raffineria base pronta. base nemica individuata. Unità sotto attacco. Non mettermi alla prova. Allora. Usati sfidati! L'inverso dell'imperatore pronto. Seleziona obiettivo. Unità persa. Non vi preoccupate. Inverso è pronto. Unità sopportata. Basi sopportata. Alleata sopportata. Ione. Basi minita individuata. Pronto è tutto. Aspettavo che lo chiedessi. Ce l'ho sottotiro. Ora va meglio. Il generale Krukov ha schierato delle forze navali sul fiume. Me lo immaginavo. Unità sotto attacco. Liderali attacchi. No in quota. Tutto bene da qui. Base sotto attacco. Unità nemica individuata. No in quota. Tutto bene da qui. Miniera in esaurimento. Base nemica individuata. Unità persa. Non in quanto lei non è un'esaurimento. Sss. Ma una volta è un'esaurimento. Mi risolto a tutti. Sì. Unità comunque. Ss. Ma una volta è un'esaurimento. Ma una volta è un'esaurimento. Seleziona obiettivo. Base nemica individuata. Unità sotto attacco. Base sotto attacco. Drone presidio tronco. Raccoglitore sotto attacco. Raccoglitore perso. Pronto a tutto. Tutto bene da te. Aspettiamo che lo chiedi. Base sotto attacco. Sono il vostro servitore. Unità sotto attacco. Base nemica individuata. Ricarazione. Costruzione. Trasolio a base pronto. Riconfigurazione base. Destinazione stabilita. Lineare esaurito. Ricarazione. Base sotto attacco. Unità sotto attacco. Costruzione completata. Nuove sezioni di costruzione. Costruzione completata. Costruzione. Trasolio i beni. Ricesa base. Pronta. Raccine di avanti. Ricesa base. Unità persa. Sito scelto. Unità sotto attacco. Base nemica individuata. Raccine di avanti. Costruzione. Ricesa base. Pronta. Potenzialmente completata. Nuove edizioni di costruzione. Raccine di avanti. Raccine di avanti. Unità sotto attacco. Atacchi patetici. Chi mi chiama? È tutto. Osate sfidarmi. Mi stanno staccando. Unità sotto attacco. Seleziono obiettivo. Costruzione. Che vengono. Esa base. All'area di configurazione. Rattine di avare. Alleata sotto attacco. Unità sotto attacco. Capsole missili avanzate e autorizzate. Unità sotto attacco. E sta bene, Guadalupe. Pronto a tutto. Facciamo un po' di rumore. Ora va meglio. O meno di vita. Costruzione completata. Alleato sotto attacco. Alleato sotto attacco. Unità sotto attacco. Unità sotto attacco. Costruzione completata. Costruzione completata. Costruzione. Unità sotto attacco. Unità sotto attacco. Base sotto attacco. Droni prestigio pronti. Unità sotto attacco. Sconfitto? Da uno come te? Niente paura. Bisna rietmaiatna! Base sotto attacco. Riperazione. File, opzioni, idrofile. Aleato sotto attacco. Unità sotto attacco. Seleziona obiettivi. Base minima in evitazione. Aleato sotto attacco. Base sotto attacco. Base sotto attacco. Base sotto attacco. Base to attacco. Base. Base hit. Base hit. Chase deadare naar faint treu. Grazie a tutti. La macchina del tempo la devi distruggere. La vittoria è quasi nostra. Non devi permettere che la usino ancora. Allarme. Stanno portando via la macchina del tempo. Distruggere l'elicottero. Unità sottortata. Questa me la godo. Costruzione. Base nemica individuata. Unità sottortata. Unità sottortata. Potenziamento completato. Nuove opzioni di costruzione. Comandiamo noi. C'è un'altra per me. Obiettivo raggiunto. Unità sottortata. Eccellente, comandante. La macchina del tempo è distrutta e il destino ci appartiene. Hai portato grande onore a tutti i tuoi antenati. Grazie a te, comandante. L'unione sovietica non esiste più. La loro utopia è finita nel posto che si merita. Il dimenticatoio della storia. Figlio mio, sono fiero di te. Vi ringrazio, padre. Hai distrutto la loro macchina del tempo e ristabilito l'ineluttabilità del destino. Preferisco credere che siamo stati noi ad aver forgiato il nostro destino. Probabilmente la verità sta nel mezzo. Perché tu sei il diretto discendente dell'imperatore Jimmu, la luce spirituale del samurai, maestro del Bushido, la via del guerriero. Ogni uomo deve seguire un codice. Infatti, figlio mio. Vi unirete a me, padre. Mi aiuterete a distruggere i nostri nemici. Sarà un grande onore. Comandante, è arrivato il momento di eliminare chiunque osi opporsi all'impero del sollevante. Il nostro tempo è giunto, comandante. Abbiamo circondato Amsterdam via mare e ora devi guidare l'attacco che sbaraglierà gli alleati. Il loro quartier generale deve cadere insieme alla fucina della loro tecnologia, il centro ricerche Future Tech. Cercheranno di difendere l'area e combatteranno all'ultimo sangue. Porta l'impero alla vittoria, comandante. Gli alleati hanno radunato le forze rimaste ad Amsterdam, guidate da due comandanti. Difendono il quartier generale Future Tech. Distruggi la base aerea alleata. Elimina anche qualsiasi resistenza alleata. Lo spazio aereo è sotto il controllo degli alleati. All'inizio dovrai cavartela senza aviazione. Solo quando lo spazio aereo sarà messo in sicurezza, i nostri ministri ti consentiranno l'accesso completo. Fallo e l'imperatore sarà soddisfatto. Non vedo l'ora di farla finita in fretta e portare a termine questa guerra. È un onore combattere al tuo fianco. Ora basta! La mia mente è artificiale. E dove sono tutti? Vi avevo avertito. La mia mente è artificiale. La base alleata deve essere distrutta affinché possiamo utilizzare la flotta aerea. Buona fortuna e difendi il tuo onore. Pronto per gli ordini. Sono approvato. Chi ha bisogno di amici? Indicami a me. Pagheranno opzioni di costruzione. Costruzione completata. Nuovo obiettivo. Generatore base. Impossibile posizionare. All'area di riconfigurazione. Costruzione completata. Riconfigurazione base. Reconfigurazione base. Costruzione completata. Nuove opzioni di costruzione. Costruzione. Costruzione completata. Difjera base. Pronta. Generatore base. Pronto. Costruzione. Generatore base. Porta base sia un'aria di baja. Distinazione stabilita. Destinazione stabilita. Postruzione completata. Unità nemiche individuate Costruzione completata Costruzione completata Costruzione Costruzione Difesa base pronta Negattura base pronta Difesa base Sito scelto Costruzione Unità nemiche individuate Costruzione completata Costruzione Difesa base Mainframe base di corporazione Mainframe base Sito scelto Desideri che mi metta a caccia delle superarmi? Sono in attesa dell'ordine Costruzione Generatura base pronta Costruzione Costruzione completata Costruzione completata Difesa base pronta Nuove opzioni di costruzione All'area di riconfigurazione Difesa base Destinazione stabilita Costruzione completata Costruzione completata Unità nemiche individuate Costruzione completata Potenzimento completata Potenzimento completato Nuove opzioni di costruzione 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 completata Torre base pronta Costruzione Unità nemiche individuate Torre base Torre base Aria di riconfigurazione Torre base Riconfigurazione base Costruzione Difesa base pronta Difesa base All'area di riconfigurazione Costruzione Unità nemiche individuate Costruzione Difesa base pronta Difesa base Generatore base pronto Destinazione stabilita Costruzione Generatore base Alleato sotto attacco Torre base Torre base Torre base Costruzione completata Costruzione completata Unità nemiche individuate Nanoshame pronto Base sotto attacco Costruzione completata Costruzione completata Costruzione completata Costruzione completata Costruzione completata Costruzione completata Quadrone finale pronto Seleziona obiettivi Unità nemiche individuate Unità nemiche individuate Unità nemiche individuate Furia dell'imperatore Furia dell'imperatore pronta Seleziona obiettivo Costruzione completata Costruzione completata Costruzione completata Potenziamento completata Nuove opzioni di costruzione 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 Unità nemiche individuate Costruzione Costruzione Dovrei fare molto meglio di così Se vuoi avere una speranza Base sotto attacco Selezioniamo tutti. Scrivetevi. Chi ha bisogno di amici? Non sono nessuno. Base sotto attacco. Un'incorso. Costruzione. È l'ora. Che c'è? È tutto. Per ora. Alleato sotto attacco. Base sotto attacco. Cosa c'è lì? Unità nemiche individuate. Squadrone finale pronto. Unità semplice. Unisceranno. Compiaccedere. E non mettermi alla roba. Loro. Cosa c'è lì? Mi stanno staggando. Mi stanno staggando. È tutto. Potenziamento completato. Nuove opzioni di costruzione. costruzione. Cosa c'è lì? Lasciali a me. Massacro. Unità con attacco. Bruceranno. Bravo. Unità nemiche individuale. Non valgono il mio tempo. Costruzione. Gli alleati hanno superarmi molto potenti. Proteggi le tue truppe con il nanosciame. I nostri sensori segnalano qualcosa di strano. A voi, impero del sollevante, siete un paradosso temporale. Pensavate che distruggendo la macchina del tempo avreste cancellato l'errore. Ma posso ancora fermarvi? Il nostro cantiere è sotto attacco. Alleato sotto attacco. Base nemica individuata. Piore metallo dal cielo. Riparazione. Unità nemiche individuate. Sarelli di armi così poco eleganti. I sovietici utilizzano la tecnologia cortina di ferro sul quartier generale Future Tank. Negarato un po' di euro sottovalutati. Costruzione. Droni presidio pronti. I'are in immersione. Riparazione. Riparazione. I'are in immersione. Costruzione. Riparazione. I'are in immersione. In attesa, annullata. Unità nemiche individuate. Generatore base. Raccoglierò i beni. Destinazione stabilita. Ricorso fatto dall'impesto, l'oratore. Costruzione. Unità sotto attacco. Base sotto attacco. Mostrerò loro come si fa. Unità nemiche individuate. Unità persa. Alleato sotto attacco. Ci siamo occupati del bersaglio. D'accordo. Alleato sotto attacco. Unità sotto attacco. Sì, signore. Dove andiamo? Sì, signore. Ok, andiamo. Unità nemiche individuate. Vai. Base sotto attacco. Costruzione. Avanti. Unità nemiche individuate. Unità nemiche individuate. Unità persa. Ok, andiamo. Commando nemico individuato. Guarda impara, ragazzo. Bacchieri maestà. Abbondiamoli. All'attacco. All'attacco. L'ora di questi canali è davvero la osia. Punto. È fatta. Sono morti. Oh, sì. Molto bene. Commando nemico individuato. Un altro. Chi è lui? Base sotto attacco. Unità sotto attacco. All'attacco. Un altro. Unità nemiche individuate. I barbari sono stati procidati. Alleato sotto attacco. Signore, siete voi. Alleato sotto attacco. Non hanno avuto pietà. Gli mostrerò il loro destino. Fuoco. Unità sotto attacco. Crocca fortificata autorizzata. Hai visto come abbiamo fatto? Un altro. Sì, signori. Sono l'uomo. Verro. Dove andiamo? Nessuna evitazione. Chi vuoi? Unità nemiche individuali. Non la cassa è nulla. Fuoco. Non la cassa è nulla. Non la cassa è nulla. Unità nemiche individuate. Unità nemiche individuate. Che muoiano. Unità sotto attacco. Anno a rapida. Preparare l'assalto. Moriranno. Dannoni principali. Alleato sotto attacco. Non lo chassa è nulla. Che muoiano. Non la cassa è nulla. Rotta l'initabilità. Salva erantica. Unità sottostante. Una buona rotta. Unità nemici individuali. Si muoiano. Lì, volo. Portimi. Si piegaremo. Bene, Mario. Avanti. Focco. Facciamo la nostra vossa. Utile. In giù. Costruzione. Anori principali. Unità nemiche individuate. Regalatore base pronto. Costruzione. Nulla, c'è nulla. Regalatore base pronto. Riparazione. Il giorno dello show è arrivato. Costruzione. Riparazione. Riparazione. Generatore base. Sito. Generatore base. Riconfigurazione base. Costruzione. Unità nemiche individuate. Generatore base pronto. Generatore base. Costruzione completata. Sito scelto. Costruzione completata. Riparazione. Costruzione. 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 Nessuno. Destruzione completata. Bene, mani. Fuoco sotto attacco. Unità nemiche individuate. Fuoco. Salve l'Aprica. Che muoiano. Con la tutela. Entrico l'Aprica è venuto. Facchetele. Unità nemiche individuate. Commando nemico individuato. L'Aprica. Fuoco. Una buona rotta. Base nemica individuata. L'impiegheremo. Sentito. Ricorda. Unità nemiche individuate. Costruzione. Costruzione. Toccio base. Pronto. Torre base. Pronto. Sito scelto. Torre base. Riconfigurazione base. Figuratore base. Costruzione completata. Nuove opzioni di costruzione. All'area di riconfigurazione. Squarto le armature. Di qua. Unità nemiche individuate. Muoviamoci. Ci pensiamo a noi. Un buon bersaglio. Costruzione complicata. Unità persa. Avviciniamoci. Unità sottostante. Costruzione. Costruzione. Potenziamento completato. Nuove opzioni di costruzione. Costruzione completata. La vittoria è il destino. Unità nemiche individuate. Unità nemiche individuate. Obiettivo raggiunto. Obiettivo raggiunto. Si metà il voto. Obiettivo raggiunto. Unità nemiche individuate. Il voto. Obiettivo raggiunto. Non è un problema. Attraversa. Alleato sotto attacco. Seleziona obiettivo. Seleziona obiettivo. Seleziona obiettivo. Questo quartiere ha lo scelto in palizia in confronto alla caso. Esplosione pallone bomba pronta. Ottimo lavoro. Hai distrutto la base aerea alleata. Adesso hai accesso alle unità aerei. Usale saggiamente. Alla fine, la nostra flotta aerea è di nuovo attiva. Base nemica individuata. Le ho viste dopo. Seleziona obiettivo. Le ho viste dopo. Unità nemiche individuale. Unità nemiche per il progetto. Unità nemiche per il progetto. Unità nemiche per il progetto. Alleato sotto attacco Squadrone finale pronto Unità sotto attacco Sì, certo Procedere Unità sotto attacco Seleziona 10 È fatta Sono morto Unità sotto attacco Unità venita individuata Mostrerò loro come si fanno Hai visto come abbiamo fatto? Alleato sotto attacco Ci muoveremo come il vento spazzando via chiunque sotto Seleziono obiettivo Seleziono obiettivo Il quartiere generale Future Tech deve cadere No, non osare avvicinarti Ho bisogno di più tempo per il prototipo della cronosfera Sappi che non esiterò a scatenare un cataclisma contro di te Volevano distruggerci Ma l'impero del sollevante è ancora in piedi Finiscili una volta perdute Il centro di ricerche Future Tech deve essere completamente raso al suolo Comandante, devi andare avanti Ti affiderò i più onorevoli, i migliori fra tutti i guerrieri Usali per ottenere questa vittoria I re Oni ci condurranno alla vittoria finale Pronto? La città è rovina Dunque questa Per l'imperatore Eccolo l'ultimo ostacolo Che il destino ci arriva La vittoria finale è per l'altra Nessuno potrà opporsi ai re Oni È tutto? Finalmente E? Questo mi piacerà Per la gloria dell'impero Comandante, tu devi vincere Rendici orgogliosi Servi il tuo interconto No, 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 no Voi siete un errore Il mio errore Grazie Grazie, comandante. Oggi hai reso onore ai tuoi antenati. E hai sconfitto i nostri nemici. Grazie alle tue vittorie, ho il piacere di concederti l'onore della carica di Shogun Supremo. Comandante, sono sulla costa nord di Ohau. Molto bello, molto intimo. Che ne dici di farmi compagnia? Forza, comandante. Tutti hanno bisogno di riposo ogni tanto, persino uno Shogun.